sulle pendici del monte giovi a circa 470 metri di altezza si trova la chiesa di sante ostacchio appartenente al piccolo borgo di acone risalgono al 1287 i primi documenti riguardanti la pieve che pare abbia dato origine ai possedimenti della famiglia dei cerchi fu completamente ricostruita nel 1552 da cosimo de medici come indicato alla targa di pietra posta sulla facciata della chiesa dove si trova anche lo stemma della nobile famiglia fiorentina al suo interno sante ostacchio presenta una navata con soffitto a botte ed elementi decorativi tipicamente di gusto tardo barocco